Eccolo, 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 eccolo. Vediamo. Che è successo? Da quando sono stato morso da quel ragno, ho avuto una sola settimana in cui la mia vita mi è sembrata normale. È stata quando tu l'hai scoperto. Sai l'incantesimo che hai rovinato che doveva far dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man? Stiamo ricevendo delle visite. Da ogni universo. Ciao, Peter. Ciao, ciao. Ok. Non sei Peter Parker. Non sei Peter Parker? Scusi, come ha detto di chiamarsi? Dottor Otto Octavius. Aspettino, sul serio, qual è il suo vero nome? Ce ne sono altri, dobbiamo rimandarli indietro. Perciò, fiutate quelle carogne. Tutto questo è colpa sua. Io conosco delle frasi magiche che cominciano con le parole. Per favore. Per favore, fiutate quelle carogne. Stai volando nell'oscurità per combattere fantasmi. Che vuol dire? Muoiono tutti combattendo Spider-Man. È il loro destino. Mi dispiace, ragazzo. Sì, anche a me. No. Cosa accade? Non si capisce un cazzo. Non c'è. Sono un pericolo per il nostro universo. Non me la porterai via. Peter. Stai lottando Per avere tutto quello che vuoi. Mentre il mondo cerca di farti scegliere. È tutta colpa mia. Non posso salvare tutti. Oh, oh, ok. Che succede? Cominciano ad arrivare. E non riesco a fermarli. Arriva. Arriva. Oddio. Oddio.